il trucco di oggi riguarda delle trasparenze che si possono attivare per vedere gli ambienti dall'esterno si tratta in realtà soltanto di un trucchetto non di chissà quale plugin o strategia particolare è un utilizzo particolare di materiali qualcosa di simile apparso sul blog internazionale recentemente qui lo vogliamo riproporre in italiano in modo che chi si occupa in particolare degli interni possa sfruttare utilmente questo questo trucco questa è una stanza in cui ovviamente non si riesce a vedere all'interno almeno così succede di solito attivando una di queste scene possiamo entrare all'interno guardare un po attorno tutta l'ambientazione è chiaro che appena lo sguardo dovesse allontanarsi un pochino non si riesce più a vedere assolutamente niente come si fa allora fare in modo di avere una simile un simile comportamento per le superfici come si vede quelle rivolte verso la telecamera quelle che danno le spalle della telecamera diventano trasparenti ebbene si tratta di applicare due materiali differenti sulle due superfici come sappiamo le superfici sketch up sono di norma colorate di bianco da un lato e di grigio dall'altro e su queste due superfici si possono applicare due materiali differenti quindi se andassimo a mettere sulla superficie interna delle pareti un materiale supponiamo esagero metto un rosso tenendo premuto attenzione devo togliere quello che c'era stato messo in precedenza e riattivare lo stile di visualizzazione a colori metto il rosso tenendo premuto control riesco a dipingere tutte le superfici contigue sulla superficie esterne vado alla ricerca di un vetro control e lo applico ci siamo vicini mettendo la trasparenza al 100% ovvero l'opacità a zero ecco raggiunto il nostro risultato di vedere appunto attraverso la faccia che presenta il vetro sul lato posteriore quando ovviamente vedo una faccia invece dal lato anteriore vedrò quel colore che avevo messo allora questo rosso che avevo posizionato lo modifico in modo di rendere un po più verosimile per un interno ed ecco raggiunto il risultato quindi quando ci si avvicina anche dall'alto se vogliamo comunque si riescono a vedere gli interni avere una bella vista d'insieme appena ci si avvicinerà ulteriormente o si entrerà all'interno della stanza ecco che il soffitto è lì pronto comunque per completare la nostra visuale un ultimo trucchetto queste linee le possiamo tranquillamente nascondere doppio clic wireframe seleziono tutto modifica nascondi esco dal gruppo e faccio tornare lo stile di visualizzazione a colori le linee sono nascoste quindi trovare delle inquadrature piacevoli è anche ancora più facile